Ciao ragazzi, io sono Gax e bentornati nel secondo episodio di Pokémon Rossofoco Randomized Nuxlog Ok, credo che dovrò accorciare questo nome Vi chiederete perché sono ancora Blosco Smeraldo e non appunto a Plumbeopoli Perché come avevo detto nell'ultimo video dovevo appunto sconfiggerlo Cercavo di sconfiggerlo solo un Pokémon Bene, mi sono dimenticato di fare XP Quindi sì, farmi lo qua 5 minuti e ci vediamo tra un pochino Intanto vai con la sigla Ok, eccoci qua, sono livello 17 Direi di essere abbastanza pronto per ogni avvenienza Finalmente siamo faccia a faccia con la nostra prima palestra di tipo roccia Beh, tecnicamente Ci vorranno all'iluce prima che tu possa competere con Brock Metang? Beh dai, tipo roccia ci sta in fin dei conti, no? Il problema è che non saprei che fare Facciamo sabbiotomba Ah, beh dai Torquoal Sabbiotomba Not bad Non vale veramente, mi aspettavo veramente di peggio Tanto ragazzi è andato benissimo Però ora siamo faccia a faccia con Brock Il mio motto è determinazione e difesa granitica Ecco perché tutti i miei Pokémon sono tipo roccia Beh, in realtà, beh, questo lo vedremo dai Tutti i miei Pokémon sono di tipo roccia Si vede Oddio, è anche di tipo elettro Che goduria Siamo stati troppo fortunati E ora Wishcash Che roba è? Questo mi sa che ci fa male Gli lanciamo turbo sabbia, dai Spero che non ci washotti Siamo a livello 18 Ricordiamocelo Sì Fallisce Pistolac No Dai, non ci può togliere tutto Mi ero spaventato per nulla Sto Wishcash è tankoso Però non toglie tanto Ce l'abbiamo fatta L'abbiamo sconfitto Però abbiamo finalmente ottenuto la medaglia sasso Let's go ragazzi In teoria abbiamo ottenuto anche la MN roccia tomba Questo vuol dire che potremmo benissimo insegnarlo Ma prima non vedo l'ora di catturare un altro Pokémon Ah giusto, ci dà le scarpe da corsa Me ne avevo dimenticato Finalmente ci dà le scarpe di corsa ragazzi Non sapete quanto mi piacciono le scarpe da corsa Qualcosa di bellissimo Ah giusto, dimenticavo Ci sono tutti questi allenatori inutili Questi allenatori servono solo per far farmare Cerco di scappare il più possibile Per un solo motivo Per far farmare il nostro prossimo Pokémon Che spero sia un Pokémon d'acqua Oppure fuoco Anche l'ottomino andrebbe bene in realtà Ok ragazzi abbiamo sconfitto Non ci è voluto nulla di che Andiamo avanti Oh, dillo subito che vuoi essere one shotato Dai Eh sì, però ora come faccio? Non voglio attaccarti Vabbè Ah? Uh, ok E eccoci qua Sono ritornato indietro per rimettere questi Per mettere soprattutto quella Per favore, per favore, per favore Nooo Ok, ce l'abbiamo fatto anche questo Un po' di fatica però Finalmente Possiamo Trovare un nuovo Pokémon Vediamo un po' Chi sarà il nostro secondo star? Orsea? No Kindra Non so cos'è ma però lo prendo Non morire, non morire, non morire Non morire, per favore no Nooo Brutto colpo Quanta sfiga ho Beh dai non importa Anche perché andando avanti C'è ragazzi Monte Luna Sono appena entrato Vediamo un po' Quale sarà il nostro primo Pokémon Oddio ma cos'è sta roba? Mi ricordano YouTuber A parte di scherzi Sono quasi sicuro che sia uno starter di terza gen Io lo prenderei Anche se Proviamo ad usare tanti sub turbo sabbia Proviamo a catturare Se no non saprei cos'altro fare ragazzi Vai Per favore c'è la mia unica speranza Dai 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 Sì Sì Oddio Sì C'è proprio un leggerissimo distacco di livello Io direi di non esplorare subito la grotta Oh ma c'era anche un Dragonair Oddio Io non so ragazzi se Da Dragonair può diventare Dragonair Oppure resta Dragonair per sempre Vabbè vedremo Dipende se catturerò uno squirtolo o robe così Comunque sia torno indietro A livellare E ci vediamo tra un po' Perfetto abbiamo ufficialmente sconfitto in teoria tutti gli allenatori che ci sono qua Tra l'altro ragazzi lui per 500 dollari vende un Magikarp Ma sarà randomizzato anche questo? Ah Speriamo che si evolva sinceramente Ora abbiamo testicolo a livello 10 Flygon è scarso Purtroppo però non saprei come allenare Magikarp Nella grotta ci sono tipi loschi Tu chi sei? Esatto c'è il Team Rocket Non badate a me sto solamente cercando di uccidere Magikarp con un tipo fuoco Uh Ah giusto dimenticaos Soprattutto in un Anaxon Lo so grazie è troppo pro Eh? Anido Queen Bracere Oddio non lo togliamo nulla Bene Siamo già a livello 12 Buono Qua ci sono tutti gli start di terza genna Incredibile Il bello di trovare Pokémon verde che sai che li puoi shotare con Blasiken XP gratis Ok andiamo ora verso sopra Mi sembra che Che c'è non avete mai visto un pesce in una grotta Mi sembra che dovrei andare prima per di qua Anche perché non vuole saltarmi assolutamente nessuno Una famosissima balena nella grotta Perché ragazzi non l'avete mai vista eh? Come sto dicendo vorrei esplorare questa grotta al 100% Anche per osri farmare Magari non dimenticarmi cose fondamentali Vabbè basta rischiare Ora direi di andare a curarmi Sto iniziando a odiare i Pokémon selvatici Cioè non sto scherzando Ogni 10 secondi ne trovo uno Oh Caramella rara Ho parlato un po' con il creatore della Randomized E mi ha detto che i Pokémon si evolvono Quindi Tecnicamente diventa Geridos Sì Perfetto Cerchiamo di non ucciderlo Intanto abbiamo sconfitto il Pigliamosche Ci manca solo quella roba là Braceretti one shot Eccolo Fune di fuga Ah buono dai Cos'è che hai imparato? Doppio calcio L'unico colpito da un doppio calcio Non me l'era accorto Guarda Ma che descrizione è? Andiamo avanti Io ragazzi voglio Ah pensavo fosse un allenatore Stavo dicendo Se non trovo Pokémon selvatici Porca Eva Stavo dicendo ragazzi Che io vorrei pure comprare Le rette pelenti Solo che dovrei girarmi Per tutta la città A ricomprarli E non c'è voglia Se tipo lui è Machop no? E di tipo lotta E tipo lotta Fanno male tipo lotta Quante volte hai detto tipo lotta In una frase? Sì Più o meno Anche perché era a livello 11 Un normale Pokémon Che ogni allenatore ha Giustamente E voi ragazzi Avete mai ucciso un leggendario A livello 11? Mi sa di no Madonna 500 di spi Oh Ha imparato pure il beccato Oddio Ma la quante bossi fai In un secondo Ora ci manca solamente Di andare sotto Ed eccoci qua Contro il nostro primo Membro del team rocket Travolando roba che siotta Vattene pulce E manda in campo Sheldr Nulla di preoccupante Abbiamo i Pokémon Oltre il normale Praticamente Sciottiamo con qualsiasi cosa Madonna Ci stai togliendo Tantissimo complimenti Comunque sia L'abbiamo sconfitto E ora Ci dà Furto Buono buono Diciamo che non è MN adatta Per il team rocket E tecnicamente Tutta questa parte Tutta l'abbiamo fatta Ora possiamo solo andare Più avanti Proviamo a Usare doppio calcio Vediamo un po' Anche sugli altri Pokémon Com'è Non è molto efficace Beh un po' me l'aspettavo Visto che è di tipo lotta Questo sarà Tipo erba Ora spiegatemi Perché hanno i Pokémon Leggendari alla fine Piliamo mosche Non piliamo solo mosche Mi sa Che battuta pessima Porca vacca Let's go Abbiamo finito questo Ora ce ne sono Oddio E poi la gente mi chiede Perché sto Odio le grotte Ragazzi E' pieno di allenatori Sono lunghissimi Ci sono Pokémon Che vanno E vengono Cioè Magari voi non lo sapete Ma io sto registrando Da tipo Un'ora E dieci E probabilmente Il video sarà anche Meno di dieci minuti Ho perso almeno Un'esera di tempo A uccidere i Pokémon Selvatici Diciamo Wow Mi ha spaventato di nuovo E chi è sto Sifo Ci siamo già visti prima Ah boh Vediamo cosa c'è in questa Pokéball La pietra lunare Ah quindi si trovava qua Seguiamo questo corridoio Tecnicamente Doviamo già essere A metà percorso E io direi di fermarci qua Abbiamo sconfitto Il cavo palestra Siamo arrivati a metà grotta E abbiamo trovato Due nuovi Pokémon Nel prossimo episodio Invece Cercheremo di battere La p***a Nel prossimo episodio Invece ragazzi Cercheremo di finire Il monte lunare Soprattutto Cercheremo di Sconfiggere La palestra Di Misty Ce la faremo Lo scopriremo Solo nel prossimo episodio Lasciate like Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi